L'assessore politica agricola Mauro Febbo, soddisfatto per questa battaglia vinta a Roma, non è facile un confronto dove bisogna uscire con decisione e all'unanimità, ma l'Abruzzo ha raggiunto un obiettivo straordinario. Ma veramente sono più che soddisfatto, sono felice perché portare a casa 432 milioni, 50 milioni in più rispetto alla vecchia programmazione credo che non era prevedibile da parte di nessuno, è stato un lavoro intenso, un lavoro difficile, un lavoro resa ancora più difficile perché nella relazione fatta dal Ministero viene evidenziato come tutte le regioni hanno avuto un aumento della spesa pubblica dell'1,25%, all'Abruzzo invece è toccato un aumento, un incremento del 4,85%. Adesso un team di esperti si dovrà mettere al lavoro, comincerete martedì prossimo, ha detto sarà un impegno non certo facile. La scelta che abbiamo fatto di inserire all'interno della direzione l'Arsa era mirata proprio a questo, quando sono arrivato 5 anni fa nella mia direzione i periti agrari, gli agronomi si contavano sul palmo di una mano, forse anche di meno. Oggi invece ho veramente un team forte affiancato a quelli che c'erano, a quelli che si sono integrati, quindi da questo punto di vista non temo nessun tipo di preoccupazioni. Noi le cose ce le facciamo in casa, c'è la squadra capace di farlo, non ci servono le consulenze esterne, non ci servono soldi buttati al vento. Noi i soldi li vogliamo dare agli agricoltori e non ai consulenti. Non ci sono nemmeno preoccupazioni per quello che invece è successo prima, cioè avrete anche la quota della regione assicurata per gli anni futuri? Assolutamente sì, questa era una delle preoccupazioni che spesso le organizzazioni mi sottolineavano. Avere avuto 435 milioni significa che la regione Abruzzo doveva mettere una sessantina. Noi abbiamo saputo risanare il bilancio di questa regione chiedendo anche sacrifici agli abruzzesi, quindi non abbiamo timore da questo punto di vista. Noi abbiamo saputo risanare il bilancio di questo punto di vista.